Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale YouTube per un nuovo aggiornamento dei mercati finanziari. Allora, andiamo velocissimi, oggi è lunedì, 8 luglio, i mercati americani sono già aperti da una mezz'oretta, sono alle 4 del pomeriggio, e andiamo un pochino a vedere come si stanno comportando i listini. Allora, il Nasdaq è leggermente positivo, più 0,15%, l'SP500 più 0,25%, il Dow Jones più 0,53%, è un po' meglio il Dow Jones Transportation, meno 0,17%. Sul fronte Europa andiamo un po' a Futsmib più 0,39%, DAX più 0,38%, UK più 0,12%, Francia leggermente positiva ma un pochino piatta. Allora, teniamo un attimino d'occhio l'indice francese, perché c'è stata la svolta dopo il ballottaggio, delle elezioni francesi, con la sinistra che ha surclassato la destra e ha surclassato anche Macron, e questo apre nuovi scenari, quindi un po' getta al vento lo spauracchio della scesa al potere della destra francese, ma dall'altra parte apre nuovi scenari a delle alleanze un po' particolari, diciamo, tra Macron e la sinistra francese. E quindi staremo un po' a vedere quello che succederà. Per il momento i mercati non sembrano reagire in maniera negativa, almeno il mercato francese. C'è da dire che in maniera molto interessante del mercato francese, l'indice francese ha realizzato questo doppio bottom, dove in questo momento si potrebbe effettivamente ipotizzare una risalita del listino francese, perché se dovesse rompere questa struttura intorno ai 7.700, in effetti potrebbe esserci una certa possibilità di risalita. Vedete che stamattina aveva aperto molto molto più in alto, a 7.746, per poi ritracciare durante la giornata. Adesso guardate, è arrivato alla pari, sta scendendo leggermente, qui ovviamente molto dipenderà da come verrà formato il governo nei prossimi giorni. Quindi il listino qua adesso prenderà una strada molto nervosa, però ripeto, la possibilità di vedere un po' di rialzo sul listino francese, in effetti c'è, quindi di vederlo tornare intorno agli 8.000, staremo a vedere se sarà effettivamente così. Vi ricordo che questi non sono consigli finanziari, consigli di investimento, stiamo analizzando i grafici, cercando di capire insieme un po' quelli che potrebbero essere eventuali, diciamo, movimenti. Guardate che, tra l'altro, è molto interessante vedere che se dovesse invece rompere quest'altra struttura, intorno ai 7.400, insomma, ci si prevede un'ulteriore discesa abbastanza pesante, insomma, una discesa abbastanza, insomma, particolare, un po' inusuale, un pochino, magari un po' troppo sopra le righe. Dicevo, torniamo un attimino sul Nasdaq, che sta al più 0,09%, più 0,10%, un pochino indeciso. Sul Nasdaq insiste questa struttura, questa creazione di questo rising wage, vedete, siamo ancora sulla parte alta di questa riga ascendente, di questo canale ascendente, che però potrebbe portare a un possibile ritracciamento. Allora, c'è da dire che per il momento di notizie particolari non ce ne sono, i mercati americani sono più o meno in stallo, seguendo le vicissitudini legate alle elezioni che si terranno a novembre. C'è tanta, tanta confusione, soprattutto da parte democratica, perché in tanti osteggiano il fatto che Biden possa continuare la sua corsa. Molti finanziatori, anche molti senatori dem, vorrebbero che lui si ritirasse a favore magari della Harris, che comunque non ha tantissimi estimatori, o addirittura si ipotizza un possibile coinvolgimento di Michelle Obama, che però ha detto che non ne vuol sapere, ovviamente, probabilmente, diciamo, da un punto di vista mediatico, Michelle Obama otterrebbe sicuramente più consensi da parte del pubblico rispetto magari alla Harris. Staremo un po' a vedere quello che succederà, per il momento, diciamo, che i listini americani sembrano continuare a tenere una strada che punta un po' verso l'alto. Allora, l'altro giorno mi è arrivata una domanda, mi chiedevate di analizzare il TLT, ovvero il Treasury Bond a 20 anni degli Stati Uniti, perché? Perché in previsione del fatto che potrebbero cominciare ad esserci i tagli dei tassi da parte della Fed. Allora, vi ricordo che la prossima riunione del FOM, che è prevista per fine luglio, siamo al 31 luglio, se non ricordo male, per cui qui c'è ancora un po' da, diciamo, da aspettare. Però è interessante vedere che il TLT, insomma, questo ETF, questo bond, diciamo, ventennale, cosa ha fatto? In questo momento ha creato questa struttura qua, questo triangolo ribassista, che in effetti ha rotto qui, vedete, e con ipotesi di target più o meno qui, intorno agli 85 dollari, non c'è arrivato, si è fermato un po' prima, si è fermato a 87 e poi è risalito, quindi, diciamo, probabilmente questo target potrebbe non arrivare, ma potrebbe essersi fermato a questi livelli qui. Adesso vedete che sta un pochino risalendo. Perché sta risalendo? Sta risalendo sulla fiducia del fatto che la Fed effettivamente possa in qualche modo innescare questo taglio di interessi. Perché? Andiamo a vederlo sul settimanale. Cosa ha fatto il TLT negli ultimi periodi? Ma negli ultimi lungo periodo. Qui siamo a marzo 2020, ovviamente, vabbè, siamo nell'epoca Covid, andiamo un pochino più avanti, andiamo nel parte di novembre, dicembre 2021, da qui è cominciato a scendere. Vedete l'indice, diciamo, che misura, insomma, il valore del TLT, adesso siamo a 92, è cominciato a scendere. Da 150 è andato sempre più giù. Ma cosa è successo in questo periodo? Ve lo faccio vedere di qua, su quest'altra finestra. Allora, cosa è successo? In realtà è successo che, qui, insomma, vedete, qui siamo a dicembre 2021, qui siamo a gennaio 2022, sono cominciato a salire i tassi. Vedete, la Fed ha cominciato a mettere una serie di aumenti ai tassi, fermandosi proprio lo scorso anno, intorno a luglio, è arrivata a 5,50, dopodiché è rimasta ferma. Ora, per quest'anno non sono previsti dei tagli, in realtà, per il momento, anche se potrebbe esserci forse, forse un paio di possibili tagli, magari forse a settembre o addirittura a novembre, però piccoli tagli 0,25. Però staremo a vedere. Per il momento, diciamo, non è ancora uscita la previsione da parte del FOM, che adesso bisognerà andare a vedere, diciamo, le varie verbali, le varie riunioni, qualcuno si aspetta un taglio già a luglio, probabile, potrebbe esserci, non è scontato, e ovviamente questa ipotesi fa sì che il destino del TLT, quindi il prezzo del TLT, possa in qualche modo salire. Come avete visto, diciamo, aumentando i tassi, aumentando, ovviamente, i tassi, il rendimento è sceso e mentre ci si attende, appunto, una ripresa, proprio perché ci potrebbero essere alcuni tagli. E quindi, diciamo, questo ingresso sul TLT, per l'utente che me lo chiedeva, in effetti potrebbe, diciamo, dare un po' di frutti sul lungo periodo, ovviamente non stiamo parlando di breve termine, proprio perché, insomma, in qualche modo siamo arrivati, sembra essere arrivati già a un bottom, in qualche modo abbiamo toccato il fondo, forse già qui, guardate, a novembre 2023, sugli 84, poi c'era stata una risalita, un rimbalzo estremamente tecnico questo, vedete che ce ne sono molti di questi rimbalzi tecnici, no? scesa, grande discesa, rimbalzino, poi discesa, rimbalzo, poi ancora discesa, rimbalzo, poi discesa, rimbalzo, vedete, sono rimbalzi abbastanza normali, quindi staremo un po' a vedere quello che succederà. Sicuramente, diciamo, l'opportunità qua potrebbe esserci, magari è già un po' anche tardi, perché siamo già sui 92, un punto di ingresso interessante sarebbe stato sicuramente questo, già sui minimi, però, insomma, qui si deve guardare verso il lungo termine. E per il momento non c'è molto altro da dire su tutto il resto. Andiamo a vedere, però, magari un po' di azioni. Allora, andiamo a vedere, AMD oggi più 2,48%, guardate AMD che sta facendo che cosa? Ha creato anche qui un Rising Wage molto interessante, ma all'interno del Rising Wage ha creato questo doppio bottom, questo doppio, diciamo, minimo di periodo, su cui in effetti ha rotto, diciamo, questa struttura, proprio a 166 e si è portato verso l'alto. Adesso è probabile che il target di 179-180 sia abbastanza, diciamo, verosimile, no? Siamo già a 2,35% oggi, quindi potrebbe starci benissimo. Però all'interno di tutto questo c'è questo Rising Wage che potrebbe spingere, diciamo, sul medio termine, il prezzo a una certa discesa. Il tutto è ancora tutto da vedere. Vedete, qua c'è un altro Falling Wage che si era creato molto prima, dove, per esempio, invece il prezzo, vedete, rompendo questa struttura qua, poteva portare verso questo target. Quindi abbiamo due target che vanno verso l'alto. Primo è questo, molto più probabile. Il secondo, questo qui, a 2,23, un pochino più remoto per il momento. Poi c'è questo un po' più pessimistico, intorno ai 126. Allora, perché vi dicevo occhio al Nasdaq? Perché in questo momento il Nasdaq, sì, sta crescendo, ma, ripeto, è dentro questa struttura abbastanza interessante. Ma soprattutto, scusate, faccio vedere gli oscillatori, soprattutto andiamo a vedere l'RSI e l'altro oscillatore, il Momentum, che sono completamente divergenti rispetto al prezzo. Quindi, diciamo, il prezzo sta salendo rispetto agli oscillatori che stanno, invece, convergendo verso il basso. Quindi questa divergenza tra il prezzo e gli oscillatori potrebbe, in qualche modo, portare poi a una discesa del prezzo che potrebbe essere un pochino più probabile rispetto a una continua risalita. Poi, ovviamente, ripeto, qui influiranno diversi fattori da qui alla fine del mese, quindi saremo anche a vedere quello che succederà anche con la decisione della Fed. Andiamo sul mondo criptovalute, che sta facendo tanto soffrire gli amanti del settore. Perché? Perché il Bitcoin, ultimamente, ha dato non pochi grattacapi. Guardate qua, è sceso in maniera anche abbastanza pericolosa sotto la EMA 200 periodi, sta galleggiando intorno a questo supporto dei 57k, che abbiamo già detto essere estremamente debole, estremamente labile. E adesso vedete che ha già fatto una discesa enorme, proprio venerdì, andando a toccare questo minimo a 53k, sfiorando quindi il supporto di più, diciamo, un pochino più corposo che è quello dei 51k. Poi è tornato indietro, poi nel weekend ha continuato a fare un po' su e giù, con molta indecisione. Oggi era ripartito in maniera decisa, verso il basso, per poi recuperare verso l'alto. E adesso, vedete, sta usando la media 200 periodi, un po' come resistenza. Quindi anche qui c'è tanta, tanta indecisione. Non possiamo fare molto affidamento sugli oscillatori, che comunque sono abbastanza bassi. Quindi diciamo che, in teoria, si dovrebbe pensare a vedere un, diciamo, mondo cripto che punta un pochino più verso l'alto, piuttosto che verso il basso. Ma le notizie degli ultimi giorni, che abbiamo già spiegato negli ultimi video, dove abbiamo visto la difficoltà dei miners a finanziarsi, e quindi vendere i bitcoin di vecchia estrazione. Tutto il problema legato a Mt. Gox, che sta ridistribuendo i bitcoin in liquidazione. Mt. Gox, scusate, era un exchange, forse il primo exchange addirittura chiuso 10 anni fa, quando nel 2013, nel 2014, ci aveva dichiarato Banca Rotta, che aveva in pancia 850.000 bitcoin dei vari utenti. Di questi 850.000 bitcoin ne sono stati recuperati circa 200.000, che gli altri non si sa che fine abbiano fatto, pare siano spariti, rubati, non si sa. E di questi 200.000 adesso si attende la restituzione dei legittimi proprietari, che bisogna capire questi proprietari, che poi si riusciranno effettivamente a riscattare questi bitcoin, ma soprattutto quello che teme il mercato è che questi proprietari, che ce l'avevano a volte, in pancia teorica, nel 2013, nel 2014, a 600-700 dollari, adesso possano venderli, non appena ne rientrano in possesso, perché ovviamente realizzerebbero un guadagno non di poche entità. Qui mi sono messo un alert per me, per fare un po' di test, non preoccupatevi. Quindi, insomma, davvero molto, c'è davvero tanta carne a fuoco ancora. Vediamo un pochino tutto il resto del mondo cripto, che sta comunque rimbalzando in maniera importante. Oggi Cardano più 8, Solana più 7, vedete anche Solana sta qui, sta lottando su questa struttura, tra i 132 e i 140, è un po' ristretto, vediamo, tra queste due medie, questa è un pochino più veloce, con la media a 200 periodi, che sta fungendo un po' da supporto, però, insomma, anche qui c'è davvero tanta volatilità in questo momento. Guardate, Binance, che ha perso la quota record dei 720 dollari, è tornato intorno ai 500, ha perso 200 dollari, è giusto di poche settimane, Ethereum è tornato sui 3000, e sta cercando con fatica di tenere questa quota dei 3000 dollari, anche qui, però, magari, qui il supporto, vedete, guardiamo il cluster dei volumi, sembra essere un pochino più corposo rispetto, diciamo, a quello di Bitcoin, e poi, insomma, c'è tutto il resto del mondo cripto, che si muove in maniera abbastanza unisona, senza tante meraviglie, diciamo. guardiamo la dominance del Bitcoin, che oggi scende il meno 0,67%, ma resta comunque molto, molto alto, 54%, vi ricordo, la dominance estremamente interessante. Andiamo a vedere anche la market cap delle criptovalute, 2 trilioni di dollari, quindi, davvero, siamo tornati su livelli molto interessanti, partiti anche qua, insomma, dal gennaio, con una certa galoppata, qui ovviamente il Bitcoin, che guida, come sempre, diciamo, il market cap, ma siamo molto lontani, ancora, dai 3 trilioni, di un po' di tempo fa, di questo periodo qua, siamo a novembre 2021, però, stiamo a prendere anche qui, cosa succederà. Bene, per il momento è tutto, non c'è molto altro, spero che questo video vi sia stato utile, se ci sono dubbi o altro, vi ricordo, lasciate pure i vostri commenti, i vostri like, le vostre richieste, come sempre, io cercherò di accontentare tutti, ci vediamo nei prossimi aggiornamenti, stay tuned, finger cross, ciao a tutti!